Questa mattina intorno alle 9 una donna è stata trovata sanguinante ferita da una pietra in via Montenevoso a Pesaro. I vicini di casa dopo aver sentito delle grida hanno immediatamente allertato la polizia. I primi segni avevano fatto pensare ad una brutale aggressione ma col passare delle ore lo scenario è completamente cambiato. La donna una colf pesarese di 55 anni stava attraversando un periodo difficile e ha deciso di colpirsi da sola con una pietra. Quest'ultima è stata ritrovata insanguinata accanto a lei. La confessione è arrivata nel pomeriggio odierno durante un colloquio tra la donna e una psichiatra. Paura anche in fase di soccorso il personale del 118 aveva chiesto all'intervento dell'eliambulanza il veicolo atterrato sulla statale all'altezza di via Milano nell'area di smessa di un benzinaio ha riportato dei danni all'elica dopo aver sfruttato accidentalmente un cartello stradale e per questo motivo non ha poi ripreso il volo.